Ciao! Di solito io faccio il video dei più utilizzati per la skin care ma siccome sto utilizzando le stesse cose del mese scorso vi parlo solo delle novità dei prodotti che ho inserito perché avendone finiti altri ho iniziato ad utilizzare altre cose Parto dai piedi e sto utilizzando questa crema della Avon la Footworks al sale marino questa è stato un regalo di Cristel e questa crema è fantastica non è di quelle che si assorbono rapidamente però dà una buonissima idratazione alla pelle dei piedi ha un odore leggermente mentolato che persiste anche abbastanza la utilizzo soprattutto di sera perché magari se devo aspettare un po' per mettere i calzini o comunque vado a dormire non mi interessa il fatto che non si assorbe velocemente ma per chi come me ha dei problemi con i piedi nel senso che ha la pelle veramente molto secca dei piedi quindi questa è una salvezza è realmente molto molto idratante e devo dire anche abbastanza lenitiva perché io la utilizzo anche dopo quando faccio lo scrub per i piedi sto utilizzando quello della Podovis che vi ho già fatto vedere che è abbastanza forte e questa mi nutre veramente la pelle è alla consistenza di un gel ma è veramente super idratante io adesso quando la finirò la riprenderò sicuramente perché è una crema veramente ottima devo dire che grazie a Cristel sto scoprendo dei prodotti dell'Avon che sinceramente se non me li avesse regalati non sarei mai andata a comprarli perché non è che non gli davo fiducia ad Avon però non pensavo che potessi avere delle cose così interessanti poi ho iniziato ad utilizzare anche un detergente intimo di antiche tradizioni con estratto biologico di aloe vera 0% less e less senza allergeni da profumo coloranti e parabeni è questo qui io l'ho preso da Tigotà più o meno in offerta sui 2,80 euro sono arrivata qui ma devo dire che ne basta davvero poco ha una consistenza abbastanza gelosa non è liquidissimo però lava bene e questa è una cosa fondamentale secondo me ma è fresco lascia quella sensazione di freschezza dopo aver utilizzato questo comunque mi sento pulita e fresca che io ho una delle cose principali che ricerco su un detergente intimo la sensazione di freschezza ha un odore fresco anche questo perché l'aloe si sente ma c'è qualche cos'altro oltre all'aloe che si sente non riesco a capire cosa è però mi piace proprio tanto e questa consistenza gelosa fa sì che voi quando pigiate il dosatore non ne sprecate tanto di prodotto devo dire quasi niente perché rispetto a quelli liquidi che quando pigiate ne esce un quintale comunque vi scivola via anche sotto l'acqua questo non lo fa perché avendo questa consistenza si dosa meglio e si riesce comunque a sprecare meno prodotto ho visto che fa anche altri tipi di profumazioni e altri tipi insomma di detergenti intimi sicuramente ne proverò altri perché con questo devo dire che mi sto trovando veramente molto bene gli ultimi due prodotti sono per i capelli e ho iniziato ad utilizzare lo shampoo ravvivante ultra delicato della Schulz questo qui per capelli chiari non noto questa cosa che vada sicuramente a qui dice che è per capelli chiari perché ravviva i riflessi io sui miei capelli non ho notato niente di particolare non li ho chiari quindi probabilmente dipende da questo è un buon shampoo molto delicato però fa bene il suo lavoro comunque lava bene il capello non me lo lascia particolarmente intrecciato non lo posso usare tutti i lavaggi perché lo lava bene ma ho bisogno poi di alternarlo ad uno shampoo più sgrassante che vada a sgrassarmi un pochino di più comunque anche la cute però utilizzato alternato non mi dispiace ha una consistenza un pochino anche questa gelosa devo dire qui non c'è scritto di diluirlo ma io per mia abitudine quando ne metto un po' sulla mano passo la mano sotto l'acqua comunque un pochino lo vado sempre a diluire e mi trovo comunque molto bene non è tanto che lo utilizzo perché saranno due o tre settimane però non mi sta dispiacendo per niente comunque i capelli li lascia belli belli morbidi ecco non è uno di quegli shampoo che ha per forza bisogno di utilizzare dopo il balsamo se non avete i capelli particolarmente secchi o che hanno particolarmente bisogno di mettere per forza il balsamo può essere utilizzato anche da solo perché almeno sui miei non tende ad intrecciarli troppo poi l'ultimo è il balsamo ravvivante della stessa linea della Schulz capelli più morbidi senza parabeni siliconi coloranti chimici oli derivati dal petrolio questo qui purtroppo questo non va bene per i miei capelli perché ha una consistenza molto densa è una crema e tende ad appesantirmi veramente tanto i capelli ho provato ad utilizzarlo alternato un lavaggio questo e uno un altro ma è la stessa identica cosa tende veramente ad appesantirmeli troppo e faccio comunque poi fatica a dargli diciamo a dargli la piega poi al capello perché avendone io tanti se me li appesantisce pure è un disastro adesso lo utilizzerò magari alternato o no alternato aggiunto per esempio un po' allo shampoo di fitofilos perché da solo non riesco veramente ad utilizzarlo me li appesantisce troppo sicuramente è un balsamo adatto per chi ha i capelli secchi e ha bisogno comunque di più di più nutrizione per i miei capelli per i miei capelli è realmente troppo poi l'odore è buonissimo di tutti e due i prodotti perché si sente la camomilla quindi devo dire che è una profumazione che non persiste a lungo ma un po' persiste sui capelli e mi piace ecco il balsamo purtroppo non fa per me ma lo shampoo è veramente un buonissimo prodotto e non che il balsamo non lo sia perché alla fine è un buon prodotto non è adatto per il mio tipo di capello queste erano tutte le novità di questo mese fatemi sapere se voi li avete provati e ci vediamo al prossimo video ciao